Piogge fortissime nel Feltrino, ieri nel pomeriggio soprattutto è stata veramente una giornata campale, soprattutto nel Feltrino dove le precipitazioni sono andate oltre le già pesanti previsioni del meteo, sono risultati inesatte per difetto, oltre 200 mm di pioggia in poche ore, era previsto un massimo record di 150 mm, ricordiamoci che se fossimo in quota neve non parleremmo di millimetri ma di centimetri, 200 cm vorrebbe dire 2 metri di neve, ieri è piovuto così tanto che se fosse stata neve sarebbero stati più di 2 metri. Si sono registrati danni con disagi per la popolazione, ripercussioni sulla viabilità, la foto di copertina del gazzettino di Belluno che vi mostro in questo momento, mostra il sottopasso allagato a Nemeggio, quindi Feltr, un'auto è finita sott'acqua ieri sera alla vettura di un'automobilista, è capitata l'imprudenza fatale, diceva l'Ardida Scalia, di un'automobilista che ha visto il proprio mezzo, quello nella foto è un furgoncino, finire sott'acqua per non aver ascoltato il consiglio di non attraversare il sottopasso di Nemeggio allagato, è uno dei disagi creati dalla pioggia a Feltr, ma io vorrei leggervi, è appena arrivato il punto della situazione fatto dall'assessore regionale della protezione civile, Giampaolo Bottacini, che ci aggiorna un po' su quel che è stato e sulle previsioni per oggi. Nel messaggio che ha mandato pochi minuti fa a noi giornalisti si legge questo, la fase più intensa della perturbazione è transitata, sono presenti ancora delle precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o piovasco, in particolare sulle zone montane e prealpine orientali in spostamento verso nord-est. Dovrebbe continuare questa situazione per un po', quindi con possibilità ancora di qualche pioggia, ma non più quei torrenti che sono venuti giù dal cielo ieri. I valori massimi, ci dice sempre Bottacini, sono stati questi. Sulla pianura centro-meridionale è andata bene tra i 5 e i 25 mm, 25-60 mm sulla fascia pedemontana e delle dolomiti settentrionali, tra i 25 e i 60 mm, che comunque è tanto, tra i 60 e i 150 mm sulle dolomiti meridionali e in consiglio, 150 mm è come un metro e mezzo, ma pensate, tra 60 e 280 mm sulle zone prealpine, con i valori massimi registrati a Valpore, Serenda del Grappa, dove è piovuto per 279 mm in un pomeriggio e nell'area del Pasubio 150 mm. Insomma, il record è un record pazzesco, c'è la Serenda del Grappa in Valpore con 279 mm, come se fossimo in quota neve, 2,80 m di neve in un pomeriggio. Vento di scirocco inizialmente teso, localmente forte in attenuazione e rotazione poi da sud ovest. Allora, volevo dirvi che ancora qualche dato sulla situazione al suolo, sugli effetti al suolo, sempre leggendo dal comunicato che ci ha mandato Bottacini adesso e che per forza di cose, queste cose che vi dico, non le trovate sui giornali. Comune di Setteville, quindi Quero, Vass, laggiù, il torrente Tegorzo in Val di Schievenin sta erodendo la strada con conseguente isolamento di due nuclei familiari. Si segnala un grave danneggiamento della condotta pedottistica della comunità montana del Grappa. Attualmente nel comune di Setteville, nelle frazioni di Quero, Schievenin, Santa Maria, Carpene, zone limitrofe, l'erogazione dell'acqua potabile è stata interrotta, mentre nei comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Monfumo, Pederoba, Pieve del Grappa, Possagno, San Zenone degli Ezzedini, quindi al di là del confine della provincia di Belluno potrebbero verificarsi dei cali di pressione, sempre per quanto riguarda l'acquedotto. Nella frazione di Quero, per garantire l'erogazione dell'acqua, verranno posizionati due autobotti in centro e vicino alla casa di riposo, questo per quanto riguarda la provincia di Belluno. Quindi una situazione oggettivamente molto pesante, facciamo i conti con questo cambiamento climatico che ci costringe ad accettare questi fenomeni estremi. Ne sa qualcosa l'Emilia-Romagna con i disastri ripetuti che sono successi negli ultimi mesi, ma anche da noi non si scherza perché le precipitazioni sono state anche veramente intense. Allora, questo per quanto riguarda il maltempo delle ore scorse, ripeto, sui giornali locali non potete trovare molto perché i giornali locali hanno chiuso poi ieri sera e non hanno questi aggiornamenti che vi ho letto adesso dalla comunicazione, ripeto, che è arrivata dall'assessore Bottacini. Se non avessimo cominciato con questo, la rassegna stampa di oggi che è mercoledì 9 ottobre, l'avremmo fatto ricordando un anniversario che noi bellunesi abbiamo il dovere di tenere fermissimo nella memoria. Oggi ricorre l'anniversario del Vaionter, il 9 ottobre 1963. 61 anni fa il tremendo disastro provocato dall'uomo che causò 2000 morti cancellando Longarone. Ecco, questo veramente richiede sempre una riflessione da parte nostra, prima di tutto in omaggio a quelle persone che sono morte, incolpevoli e in secondo luogo, forse dovremmo dirlo prima perché è la causa. Ricordarci che a volte l'arroganza dell'uomo, la sete di guadagno eccetera può provocare cose veramente indicibili. Allora, questo lo trovate, ricordo del Vaionter, lo trovate ovviamente su tutti i giornali, per esempio sulla prima pagina del Gazzettino trovate un lancio in prima pagina in basso, vediamo se riesco a mostrarvelo, il Vaionter è quel cimitero dove i morti sono morti due volte, è una riflessione di Iris Rocca, però voglio dire giustamente è in prima pagina. In prima pagina sul Gazzettino Nazionale finisce anche questa notizia, meno di cinque anni per una strage, è roba di bellino. Parliamo di Angelica Hutter, la tedesca che ha patteggiato quattro anni e otto mesi, con l'auto uccise un uomo, il figlio di due anni e la nonna, niente carcere, resterà in una struttura sanitaria, il nonno ho perso tutto, lo Stato così si fa complice di un omicidio. Prima pagina sul Nazionale del Gazzettino perché è una di quelle notizie che travalicano di sicuro i confini della nostra provincia. Non c'è appunto sulla prima del locale perché la prima è l'apertura. Ve lo mostro, vi mostro il tema sul Corriere delle Alpi dove viene affrontato così in apertura della sezione di Belluno, niente più carcere per Angelica Hutter, la vediamo anche questa donna, patteggia quattro anni e otto mesi per la strage. La donna che travolse e uccise Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin attualmente è in libertà vigilata, in comunità ne scrive Gigi Sosso a pagina, nell'apertura di Belluno, a pagina 17 del Corriere delle Alpi di oggi. C'è anche la voce dei familiari delle tre vittime che hanno scelto di stare in silenzio e c'è la foto di Giuseppe Triolo, l'avvocato bellunese che ha difeso la donna. Sulla pagina successiva vi segnalo del Corriere delle Alpi l'intervista a Roberto Padrin, il sindaco di Longarone, ovviamente nel giorno dell'anniversario del disastro. Padrin coltiva la memoria, qui una grande aula sulla cura dell'ambiente. Nei primi sei mesi dell'anno 400 pullman di visitatori sono arrivati nei luoghi del disastro. Da 40 giorni tutti possono consultare in rete gli atti che raccontano la nostra tragedia. Ecco, ancora una volta, quello che vi dicevamo anche ieri, si ha la netta percezione che, non so, che stia crescendo, continuando a crescere la sensibilità dei bellunesi, ma degli italiani in genere, se arrivano questi pullman da fuori, verso quello che è stato. Per decenni si è fatto fatica, perché ci è voluto tanto per il processo, anche a capire di chi erano le colpe, se si era trattato di una fatalità, eccetera, e poi invece è stato accertato in tempi in fondo recenti che la responsabilità è stata totalmente dell'uomo. Sono stati gli uomini, è stata l'ingordigia da una parte e la superficialità dei tecnici dall'altra a determinare il disastro che ha causato la cancellazione di un paese intero, tocando quasi 2000 morti, 1910 mi pare che siano, no? Ecco, il dovere, insomma, di ricordare che però sembra così, insomma, si era temuto dai tempi di Paolini, quando aveva fatto lo spettacolo sull'Aiont, si era temuto che ci fosse un rischio di oblio, no? Sulla disgrazia, sul disastro, e invece no, invece no, la mia memoria si starà forzando e si viene a vedere il varionte. Ecco, Zaia ieri ha detto la ricostruzione ha dimostrato le migliori qualità dei cittadini veneti, martella del PD è intervenuto, parliamo sempre di consiglio regionale, la tutela del territorio e la difesa del suolo restano emergenze nazionali. Altra pagina dalla regione, 400 euro al mese a 462 bellunesi non autosufficienti, vengono appunto da Palazzo Balbi che ha messo sul piatto oltre 61 milioni di euro per aiutare un bel gruppo di over 65. C'è Oreca, Longarone, importante, il premio San Martino, assegnato a Dino Brida, giornalista, scrittore impegnato nell'associazionismo culturale e sociale, è un profondo conoscitore e divulgatore della storia dell'emigrazione. Anche da qui salutiamo il collega Dino Brida, giornalista, e gli facciamo i complimenti per questo conseguimento. Andando alle altre pagine su Feltre, appunto, il Corriere è riuscito a mettere qualche immagine del disastro del maltempo di ieri, la pioggia mette a dura prova in Feltrino, numerosi allagamenti e colate detritiche, come vi dicevo. Poi andando più avanti sul giornale, sul Corriere delle Alpi che stiamo sfogliando in questo momento, arriviamo alla sezione dell'alta provincia che viene titolata sempre questa testina cortina, rivivrà il trampolino olimpico di Zuel, piano esecutivo pronto entro l'anno. Sapete cosa vogliono fare? Il trampolino è cadente, va messo a posto, gli va ridata dignità, la fotografia di pagina 29 ci mostra in che condizioni versa e non deve più sembrare un rudere, però non potrà più essere usato per i salti. Sapete cosa si farà giù nella valle, insomma, dove i saltatori andavano ad esaurire la propria spinta, dove terminava la discesa dei saltatori, lì ci sono le tribune, verranno messe a posto, c'è questa grande spianata in mezzo e verrà usato per eventi con le tribune ancora a disposizione, lì tra l'altro sarà l'area delle premiazioni, quindi verrà un palcoscenico bellissimo dominato dal trampolino storico del 1956. C'è anche un approfondimento dedicato all'azienda di Pontanelle Alpi che lavorerà per la costruzione del villaggio di Fiammes, che ha già i cantieri in corso a Portina, Depra un'impresa familiare verso i 30 milioni di fatturato e ieri mi diceva Ezio, titolare Ezio Depra, che il villaggio che costruiranno avrà delle casette di standard alto, potrebbero anche durare, è un delitto, diciamo così, pensare che poi verrà smantellato tutto, ma Depra diceva vediamo, vediamo, perché insomma si mettono giù cose anche di valore, che dopo bisogna vedere se veramente è il caso di smantellare tutto a cortina, viste anche le esigenze di alloggi che ci sono. Io adesso passo al gazzettino, però prima volevo farvi vedere la prima pagina del Corriere e in particolare evidenziare questo titolo che non approfondiamo, un articolo firmato da Marco Zatterin, pagina 5, è un tema che ci guarda tutti ed è drammatico, meno nati e pochi migranti dell'Unione Europea, nascono pochi bambini e i migranti tendono a non arrivare più, un po' perché li rimandiamo via, un po' perché l'economia è anche in stagnazione, perso un milione di lavoratori l'anno. A me piace pensare più alle persone che ai lavoratori, però vediamola anche dal punto di vista dell'economia, questo è un problema enorme, abbiamo perso un milione di lavoratori a causa dei nostri pochi bimbi che facciamo e a causa dei pochi migranti che ormai entrano nell'Unione Europea. Io penso che questa cosa meriterebbe una riflessione profonda, una riflessione sulla nostra cultura, ma anche sulla nostra politica, anche perché con le politiche dei respingimenti continuiamo a instillare nella popolazione una chiusura rispetto a questo tema che invece per molti aspetti potrebbe essere risolutivo, quello di integrare tra noi chi è disposto a venire qui dalle terre dove c'è miseria e paura. Credo sarebbe importante. Allora, vi dicevo che sarei tornato al gazzettino, vediamo qui appunto gli altri titoli della prima pagina, Il mondo dello sci in lutto per Renato Vanz, grande scopritore di talenti, ne scrive Fontanive, Dario Fontanive, pagina 8. Belluno, Callas Dalfabro, un caso rievocato dalla nuova biblioteca civica Ente Parco e Lupi, la tutela funziona con la prevenzione, sono stati resi noti dal parco i dati, i risultati finali insomma del progetto Wolf Alps, in cinque anni sono state fornite 60 reti e gli elevatori, sono stati attivati anche i meccanismi di risarcimento, dal carcere ai lavori di pubblica utilità, opere di interesse sociale affidate a detenuti in semilibertà per favorire il reinserimento, 800 mila euro di aumento di capitale per la di Longarone, San Pietro di Cadore il sindaco a capo dell'Unione Montana, sottopasso allagato anno e mezzo abbiamo già detto, i 61 anni dal Vaiont, gli espropri di Cortina, ieri il gazzettino evidenziava che si portava lì anche un pezzo di bosco della chiesa di Zuel, il parroco noi non ci opponiamo, ecco, quindi insomma da parte l'altra area così utilizzata sarà terreno regoliero, provvisoriamente utilizzata, anche le regole non fanno problemi, c'è la foto del trampolino appunto zona che sarà oggetto di riqualificazione, verrà bellissimo l'ingresso di Cortina. Auronzo, dopo un anno di commissariamento il CAI voterà un presidente del posto, ecco, con questo titolo finisco qui, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, agli amici di Radio Piave ricordo che questa rassegna viene vista, è visibile anche a video sui nostri social, la pagina di Facebook, il canale di YouTube, su Instagram, ecco, ci trovate un po' dappertutto sui social, insomma, basta cerchiare l'amico del popolo e volevo raccomandarvi la solita cosa, noi vi abbiamo presentato in sintesi i contenuti del gazzettino e del Corriere delle Alpi, mi raccomando acquistate i giornali, oggi esce anche l'amico del popolo, se il lavoro che facciamo vi piace, vi risulta importante, ebbè insomma bisogna che in qualche modo ci sostegnate anche, quindi insomma veramente vi ripeto, passate in edicola oppure online, ricordatevi che c'è bisogno che li acquistiate. Grazie mille, grazie anche per la vostra sensibilità, un abbraccio a tutti, buona giornata, speriamo che appunto il tempo oggi sia meglio di ieri e che ci consenta anche di leccarci le ferite, specialmente giù in Feltrino, un abbraccio soprattutto a tutti gli amici da laggiù, ai tanti che ci seguono da quelle zone e un saluto caro. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.